Salve e benvenuti a Days of War. Oggi faremo ancora una breve panoramica sul Medio Oriente. Siamo alla nona settimana di guerra tra Israele e Damas e la guerra è ripresa a tutto campo dopo il periodo di tregua. Le forze dell'IDF hanno allargato l'offensiva anche nel sud della striscia. Il ministro della difesa di Israele Gallant, già durante la tregua dei sette giorni, diceva che alla ripresa delle operazioni le operazioni avrebbero interessato il territorio della striscia. Questa, divisa in due prima della pausa di sette giorni, si accinge a diventare un unico teatro di guerra con l'intensificarsi delle operazioni di terra. Coloro che avevano lasciato il nord di Gaza per dirigersi al sud, ora devono spostarsi ancora più verso il confine con l'Egitto. Il modo con cui Israele ha operato nel settentrione di Gaza potrebbe essere replicato nei territori meridionali. Nel nord, le forze di terra israeliane proseguono con operazioni di sgombero e di distruzione delle infrastrutture di Hamas. Circondano le aree dove si nasconderebbero i miliziani e, da fonti del Ministero della difesa di Israele, non lasceranno quei territori fino a missione compiuta. Israele starebbe anche valutando di inondare i tunnel sotterranei con acqua pompata dal mare per costringere Hamas a venire fuori. I vari aspetti di queste possibili azioni vengono studiati con molta attenzione perché potrebbe compromettere sia la sicurezza degli ostaci, ancora nei tunnel, e si potrebbero anche inquinare le falde di acqua dolce. Times of Israel riporta che, secondo un esperto di guerra sotterranea, i tunnel sarebbero predisposti su più livelli. Quelli superiori, più vicini alla superficie e resistenti a bombardamenti bunker buster, sono stretti, organizzati con trappole esplosive e porte anti-esplosione. Da questi si accederebbe poi alle strutture poste più in profondità, nei livelli inferiori, e più protette, di dimensioni adeguate a fungere da alloggi, depositi logistici, ricovero armi e centri operativi, ed è lì che sarebbero tenuti gli ostaggi. Sono ancora 136 nelle mani di Hamas, di cui 17 donne e bambini. Non si sa quanti di loro siano ancora vivi. Intanto i carri armati sono arrivati a Caniunis, nel sud della Striscia, dove, secondo report dell'intelligence, si nasconderebbero i capi di... Il controllo della Striscia da parte dell'IDF aumenta. L'enclava è stata mappata e suddivisa in moltissime zone numerate. La cartina con la ripartizione è stata pubblicata anche online, unitamente alle istruzioni per l'evacuazione delle aree a rischio fuoco. Per le forti limitazioni sia di elettricità che di internet, sono pochissimi gli abitanti della Striscia che hanno la possibilità di controllarla utilizzando il codice QR. Se Israele porta avanti le operazioni, Hamas e le milizie palestinesi sia a Gaza che in Cisgiordania non stanno ferme. Le forze IDF vengono prese di mira lungo le linee di avanzamento e non solo. Le brigate di Al-Qassam, di Hamas e le altre formazioni militari, le brigate di Al-Quds, quelle della Resistenza Nazionale, quella di Al-Nassar Saladim, rivendicano anche il lancio di attacchi missilistici e razzi sul sud di Israele. Anche in Cisgiordania aumentano le operazioni. Le milizie palestinesi sono sempre più spesso le forze israeliane con armi leggere e con ordigni improvvisati, gli EAD. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, l'FPLP, che opera in quel territorio, minaccia un'escalation in risposta all'uccisione di palestinesi combattenti e non. Fuoco incrociato anche nel nord di Israele, con gli Hezbollah, Dal sud del Libano i militanti del Partito di Dio lanciano razzi e bombe da mortaio contro le truppe israeliane e civili. Israele ha istituito una fascia di evocazione larga 5 km lungo tutto il confine del Libano. La guerra tra Israele e Hamas si ripercuote anche sulle forze americane stanziate in Siria ed in Iraq. L'asse della resistenza islamica irachena, supportata dall'Iran, mette in costante allerte le forze americane dislocate nei due paesi. Dal 18 ottobre sono stati rivendicati più di 80 attacche contro il personale e le strutture USA in Medio Oriente. Nella striscia la situazione è drammatica. Onu dice apocalittica. Le speranze per giungere ad un'eltorio retroegua sono molto basse. Ne Israele e ne Hamas mostrano la volontà per giungere ad un accordo. I giorni prossimi vedremo che cosa accadrà. Per oggi è tutto. State sintonizzati sui social di Per Sempre News e arrivederci al prossimo appuntamento. Per oggi è un'eltorio retroeggiato.